E' una vittoria importante per noi, possiamo mettere al sicuro il secondo posto in classifica, una cosa fondamentale per noi. Abbiamo una partita da recuperare, se battessimo il Wigan andremo a 10 punti dal Tottenham, da lì in avanti non avremo più problemi. Sono felice perché i tifosi si meritavano questa vittoria. No, lo scudetto è chiuso, finito. Quest'anno abbiamo avuto così tanti problemi con infortuni importanti, prima Guero, poi Kompany, Yaya Toure, non si può continuare a perdere giocatori così. No, non possiamo perdere Guero, Kompany, Yaya Toure insieme, non siamo abbastanza forti da poter fare a meno di 3 o 4 giocatori di questo calibro. Per una partita va bene, ma più a lungo rendere cose molto più complicate. Conosco il calcio abbastanza da sapere che i distacchi mostruosi a volte capitano. In Spagna e Germania la situazione è la stessa, il distacco tra Real e Barcellona è grandissimo, come tra Bayern e Borussia Dortmund. Talvolta capita di perdere punti in maniera stupida in una stagione. A noi è successo col QPR o contro il Liverpool. Abbiamo perso 5-6 punti e il campionato ce lo siamo giocato lì. Non so come abbiamo fatto a perdere quelle partite, oggi invece meritavamo di vincere, abbiamo giocato meglio di loro.